cari amici di youtube oggi con il nostro amico andrea amico e collega andremo a effettuare la pulizia di un irrigatore dell'attoro andiamo ad alzare la testina la svitiamo togliamo la ghiera facciamo uscire facendo attenzione a non romperla montiamo completamente la testa con il rotore come potete vedere il filtro è sporco ma svitare adesso andremo ad effettuare la pulizia andiamo ad aprire l'acqua per farlo spurgare sciacquiamo tutto chiudiamo l'acqua con un piccolo sistema togliamo l'acqua presente all'interno del corpo andiamo a richiudere il corpo col filtro la mettiamo bene inseriamo tutto andiamo a spingere la ghiera all'interno e ad inserire l'ultimo montiamo la testina e tiriamo su questo è un irrigatore dell'attoro se 3 30 series adesso testiamo mettendolo in posizione di on se funziona perfettamente perfetto perfetto grazie a tutti e al prossimo video grazie a tutti Autore dei sovrapposti